Con deliberazione del Consiglio Comunale sono state apportate dell'integrazione al regolamento che disciplina anche l'inquinamento acustico. Che cosa prevede l'articolo in questione? Gli articoli in questione prevedono che il centro-sinistra ha deciso di spegnere la musica ai locali del centro storico. Questa modifica al regolamento prevede che durante i giorni feriali la musica debba essere spenta, ripetiamo, e non diminuita, ma spenta alle 24, mentre invece durante i giorni festivi a luna di notte. Noi crediamo che questo documento sia un documento che non sta né in cielo né in terra, però il ragionamento parte da lontano perché non bisogna fare dell'emagogia. Il Comitato del Centro Storico ha legittimamente e correttamente avanzato delle richieste poiché il volume di alcuni locali era effettivamente troppo elevato. Quindi nasce un pochino un tantam sulle responsabilità, chi deve controllare, eccetera. E ARPAM, quindi l'autorità che deve effettuare i controlli, non ha sempre a disposizione il tecnico pronto ogni piesso spinto che si debba andare a fare la valutazione e la misurazione in loco. Quindi di fatto spesso queste rimostranze cadevano in un nulla di fatto. L'amministrazione comunale però durante dieci anni non ha fatto nulla e la normativa in questione prevede proprio che si possano istruire delle figure, formarle, autorizzarle al controllo del volume che si percepisce al di fuori dei locali. Quindi cosa succede? Non avendo fatto nulla in questi dieci anni, l'unico modo per andare incontro alle indicazioni dei residenti è stato quello di decidere di spegnere la musica a Fano. Capite che in una città che si proietta in un futuro ricettivo, che vuole fare comunque sia anche del suo centro storico un punto di aggregazione, questo è un pochino fuori da ogni grazia del Signore e diciamo che non va di sicuro in un'idea di buon senso. Ecco però si precisa anche che questi locali dovrebbero dotarsi della strumentazione. Sì, dopo il danno anche la beffa perché non solo non si può demandare a qualcun altro di fare queste rilevazioni, ma addirittura chi volesse continuare dopo le 24 fino al venerdì o a luna di notte nei giorni festivi, deve dotarsi della strumentazione che servirebbe a qualcun altro per fargli la multa. Cioè dire, devono dotarsi degli strumenti per essere sicuri di rimanere all'interno dei limiti. Attenzione, non stiamo parlando della musica percepita all'esterno del locale, ma anche all'interno. Quindi voi pensate a un semplice bar, a una semplice attività che a mezzanotte e 10, il giovedì sera, vuole avere la musica accesa perché ha piacere di far ascoltare un po' di buona e sana musica ai propri ospiti, bene, la deve spegnere. Questo atteggiamento chiaramente poi mortifica ancora di più chi in tutti questi anni ha sempre rispettato le regole, perché ci sono di 100 locali, 99 sono sempre stati in regola, bene, oggi questi 99 locali devono spegnere la musica invece di poter così poter continuare a ricevere i propri ospiti anche in orari un pochino più nottambuli, se così si può dire, abbassando la musica. Da oggi la dobbiamo spegnere. Ci teniamo però a dire che si capiscono benissimo le motivazioni dei residenti del centro, tant'è che la prossima amministrazione comunale dovrà rivedere assolutamente questo regolamento, partire da subito dotando l'organo competente, quindi in questo caso potrebbe essere anche la polizia municipale, delle figure di cui parlavamo prima, formandole e soprattutto mettendo immediatamente a bilancio i fondi che servono per poterlo fare. Grazie. Grazie.